Sono venuti circa una settimana dopo che loro li avevano arrestati, perché eravamo ancora in agosto, e mi interrogano per una giornata, io sono stata interrogata, cioè il mattino, e mi ha interrogato il comandante dell'OP, uno dei commissari dell'OP, mi pare che fosse il dottor Cocconi, pensa che era un cugino di Cocconi, anzi il comandante, che era il comando unico, il vice comandante del comando unico dei partigiani della montagna, in un modo molto duro, e lui dice no, perché tu hai fatto, no, io sono andata su a prendere delle uova, non è vero, c'è stato un uomo che ha voluto la mia carta d'entità, ma io non so neanche chi sia, cioè, capisci, ma per due o tre ore, sempre botta e risposta, botta e risposta, botta e risposta, poi quelli hanno detto vabbè, adesso ti mettiamo a confronto, ti ha preso la carta d'entità, e vedo che questo, portano dentro un uomo, lui era in borghese, ma era tutto vestito dalla festa, con la cravatta, capisci, io sapevo che i partigiani li torturavano, visto che lui non l'aveva torturato, e quello si mette a dire che io quello che avevo fatto, che non ho fatto, che mio fratello è un partigiano, che io ero andata a prendere una rivoltella. Guarda, io ho perso il lume della ragione, ho perso il lume della ragione e ho reagito, ed è stata la mia fortuna, perché ho reagito in un modo molto duro, sei un delinquente, io sono venuto a prendere una rivoltella, tu quando sono arrivata hai voluto la mia carta d'entità, hai preso il nome e cognome e il numero della mia carta d'entità, e siccome hai visto che abitavo a Reggio, tu hai detto che conoscevi mio fratello, quello l'ho dovuto dire, mio fratello era già scappato in montagna, era anche la mia salvezza, no? Ecco, dico tu hai detto che conoscevi mio fratello, che io dovevo portare un'arma a mio fratello, come faccio io a dirti di no? Tu hai riarmato, io avevo solo il cestino delle uova in mano, ecco, ma proprio in un modo molto cattivo, e allora lui ha detto sì, le cose stanno così, cioè di fatto si è rimangiato praticamente quello che aveva detto. Allora loro hanno detto, adesso tu firmi il verbale, io se ti devo dire quello che ho scritto nel verbale non lo so, io e mia cugina abbiamo firmato il verbale, poi hanno detto adesso andate a casa, ma domani mattina noi dobbiamo parlare ancora con voi. Io dico, ma scusatemi, io ho paura di stare a casa, sfollo da, vado, tutte le sere io vado a San Bartolomeo, che ho mia cugina, che era segretaria del fascio di San Bartolomeo, se mi lasciate andare là, e mia cugina, l'altra che era con me, dice sì, anch'io vado con lei, oppure vado da mia mamma, se ci lasciate andare, dice sì, sì, lì ci potete andare, figurati, io arrivo a casa, c'è Mafaldo Chiesi, che anche lui era un antifascista, che operava, lui teneva collegamento Reggio con Milano, e mi dice, ma qui tu non ci puoi stare, ma tu scherzi, domani mattina ti torturano, quelli ti hanno dato il dolcetto, dice, ma tu domani mattina vedrai che cambiano le cose, non credo, con un fatto come quello che è avvenuto, che gli ho spiegato, eccetera, eccetera, dice, non ti credere che vedrai che senz'altro mi venga bene, scappa subito, poveretto mio padre a un determinato momento dice, ma Santi Numi, io ho quattro figli, devo dire che non li conosco, perché io non ho mai pensato che tu fossi, perché operavamo, ma operavamo nella clandestinità assoluta, nemmeno il mio fidanzato sapeva il lavoro che facevo, né sua madre, né suo cognato gli avevano detto che io facevo questo lavoro, perché per allora la clandestinità era determinante per la salvezza della vita, cioè non esisteva nessun valore, esisteva questo, fondamentalmente esisteva questo, e dice, adesso anche tu vai via, ho un figlio che è un anno che non so dov'è, è scappato ma non so se è vivo, l'altro è tre mesi che non so dov'è, dice, è venuto a casa un momento, però adesso io non so più dov'è, perché il collegamento pianura-montagna non esisteva con le famiglie, dice, adesso vai via anche tu, rimanga a casa con una ragazzina di dieci anni, perché mia sorella aveva quell'età, però dice, io penso che tu abbia fatto una scelta giusta, se non altro, dice, a differenza di noi che stando a casa facciamo la fine dei topi, tu hai la possibilità di salvarti, almeno hai la possibilità di difenderti, però ricordati, dice, che tuo padre ha una grande stima di te, questo è stato il discorso che mi ha fatto mio padre.